Finalmente ci siamo, è arrivato sul mercato il primo tool di intelligenza artificiale in grado di generare un video a partire da un semplice testo. Vediamolo insieme. In questi mesi il mercato degli strumenti di intelligenza artificiale generativa è letteralmente esploso. Tre sono gli ambiti più maturi al momento, il text-to-text, il text-to-code e il text-to-image. L'azienda più all'avanguardia in questo momento si chiama Runway AI, già nota per un omonimo tool di editing video con l'intelligenza artificiale. Già qualche mese fa aveva fatto dei grossi passi in avanti proponendo Gen1, uno strumento in grado di generare dei video, modificare dei video partendo da video preesistenti. Te ne avevo già parlato in un video precedente che ti linko in descrizione. In quell'occasione avevamo visto anche un'anteprima di Gen2 in versione Alpha che finalmente oggi è stata rilasciata a tutti. Per utilizzare Gen2 basta andare su runawayml.com e iscriversi o loggarsi se si è già iscritti. Basta un qualunque account Google per esempio. A questo punto si entra nella dashboard principale, nella home che contiene diversi strumenti di intelligenza artificiale generativa, tra cui Gen1 ma anche tantissimi altri e qui si può iniziare ad usare Gen2. Come vedi l'interfaccia è molto spartana, c'è semplicemente questa grande finestra in cui possiamo inserire un prompt e poi eventualmente modificarlo con alcuni settaggi che vedremo. Per esempio iniziamo con un prompt molto semplice, Seascape at Sunset. Basta premere Generate e il sistema inizia la generazione del video, per la quale ci vorranno almeno 60 secondi. Ecco il video che è stato generato, vediamolo insieme. Beh non male, effettivamente è una scena marittima al tramonto, si vede anche un surfista tra le onde, non è male. Ovviamente si può scaricare con il tasto qui in alto, si può ingrandire per vederla meglio, oppure si può procedere andando a vedere i settaggi. Cliccando sul pulsante in basso a sinistra si apre un menu delle impostazioni con una serie di opzioni. La prima voce riguarda il seed, che non sono altro che delle coordinate usate dal sistema per generare il tuo video. Per cui il consiglio è che se ti piace lo stile di video ottenuto, conviene segnarsi il numero di seed, oppure utilizzare questo tasto con il lucchetto per far sì che nelle generazioni successive il sistema utilizzi più o meno lo stesso stile, in modo da dare una uniformità all'intero video come insieme di tante clip. La seconda voce è quella dell'interpolazione, un metodo che serve a rendere più fluido il passaggio tra un frame ed un altro, quindi il consiglio è di attivarlo, di selezionarlo. La terza voce è l'upscale, che serve nel momento in cui siamo soddisfatti di un certo prompt e quindi vogliamo crearne uno ma molto più ad alta risoluzione. Quindi il comando di upscale serve a migliorare la risoluzione del video. Infine l'ultima voce è quella di rimozione del watermark. Conviene attivarla ovviamente altrimenti avremo dei video con il marchio di runway in basso a destra. Un'altra possibilità che il sistema ci dà è di utilizzare un'immagine come riferimento per modificare il video, quindi il prompt che abbiamo utilizzato. Per esempio cliccando qui a destra posso aggiungere un'immagine presa dal mio computer, per esempio questa di un tramonto un po' più rossastro, un po' più infuocato, e darla in pasto al sistema per vedere se la acquisisce per modificare il mio video iniziale. Ecco il video generato, lo guardiamo insieme e sicuramente il sistema ha preso come riferimento quell'immagine rossastra che io gli avevo dato in pasto, anche se ha generato una sorta di sole molto rosso che più che tramontare sembra quasi sorgere. Comunque non male. Proviamo qualche altro prompt di diverso genere, quindi dai paesaggi passiamo ai ritratti, per esempio Beautiful Lady Looking at Camera Cinematic. Ecco il nostro video, il sistema ha tenuto ancora l'immagine di riferimento che mi ero dimenticato di togliere, ma in effetti vediamo questa donna in due situazioni diverse, un po' statica, ma ha acquisito il rosso del tramonto iniziale. Proviamo ora a vedere come se la cava con dei cartoni animati, quindi facciamo Dog on a Beach Cartoon Style. Ecco il nostro cane sulla spiaggia, anche questo un po' un po' statico, un po' strano, tra l'altro con questa testa impalata. Non è un esperimento granché riuscito. Andiamo avanti e proviamo con qualcosa di più astratto. Golden Blue Abstract and Futuristic Design Movement. Vediamo cosa ci genera. Vediamo questa immagine astratta e in effetti è abbastanza riuscita questa serie di nastri concentrici che si muovono. Un video che potrebbe essere utilizzato per qualche tipo di presentazione o di sfondo. Quindi al momento il sistema è sicuramente molto interessante. Si vedono i passi avanti fatti dalla prima alfa di qualche mese fa ad oggi. Ci vuole ancora tanto altro lavoro ma sono sicuro che nei prossimi mesi il sistema migliorerà molto. Intanto quello che si può fare è iniziare a sperimentare con diverse tipologie di prompt. Una cosa che io farò nei prossimi giorni sto già facendo per la mia masterclass in marketing aumentato e intelligenza artificiale. Se vuoi saperne di più ti linko il corso nella descrizione e ovviamente se vuoi ancora rimanere in contatto con me e scoprire nuovi strumenti di intelligenza artificiale e generativa non ti resta che iscriverti al canale. Alla prossima!